Bentornati su MyFootballJersey. Vediamo l'edizione fan della terza maglia del Liverpool per la stagione in corso. Vi ricordo che l'edizione fan è l'edizione un po' più comoda, un po' più economica, pensata per i tifosi. Grazie a tutti. La maglia non è niente male, questo viola mi ricorda tanto i colori della fiorentina, comunque molto originale, bello il contrasto col nero, il costo lo vedete qui sopra, c'è poco da aggiungere, veramente strepitoso. Se volete maggiori dettagli trovate i riferimenti qua sotto in descrizione. Andate a vedere perché oltre a questa maglia vi sono tante altre offerte che vi attendono. Adesso vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Prima però iscrivetevi al canale, è un piccolo gesto che dovete fare ma che ci aiuta a mostrarvi maglie come questa tutti i giorni. Per oggi è tutto, alla prossima! Ciao! Ciao! Ciao!